Un saluto a tutti gli amici di Mew Italia e Nexus Lab. Bentrovati per questo unboxing di Mi One S, il secondo terminale realizzato da Xiaomi dopo quello dell'anno scorso Mi One. Quest'anno questa versione di Mi One non ci è stata inviata direttamente da Xiaomi come era successo per il suo predecessore, ma siamo dovuti ricorrere ad un negozio online ad acquistarlo privatamente e tra parentesi non ci siamo trovati neanche benissimo con questo negozio cinese, ma di questo magari ne parleremo più avanti su Mew Italia e vi daremo anche qualche dritta per evitare gli shop online meno affidabili. Ma andiamo a vedere dunque che cosa contiene la confezione che ci è arrivata. Intanto come potete vedere il box è semplicissimo, dietro abbiamo l'etichetta con tutte le caratteristiche di cui discuteremo nella nostra video recensione. Adesso vi do una piccola anteprima, eccolo qua, One S di Xiaomi. Fortunatamente il telefono è originale, abbiamo verificato. Ecco qua, allora, la confezione, il box è identico a quello che abbiamo visto su Mi One. Quindi qua abbiamo il telefono, poi andiamo ad aprire, troviamo il cavetto dati USB, micro USB. Questo è un adattatore USB per la presa a muro, però chiaramente questa utilizza il sistema cinese. E quindi a noi servirà un adattatore. Anche questo con il logino Mi. Poi proseguiamo. Il classico pacchettino con la manualistica. Vediamo qua tutte le varie istruzioni per l'installazione della batteria, eccetera. E troviamo in aggiunta in questa versione questi librettini. di un operatore cinese. Infatti il nostro Mi One S è personalizzato, customizzato da un operatore cinese. Vedremo infatti poi la boot animation e alcune caratteristiche della ROM che sono state personalizzate dall'operatore. Questa è la batteria, da 1930 mAh. Sempre il classico colore arancione. Proseguiamo velocemente. E non ci dovrebbe essere altro. Ok, perfetto. Quindi, vediamo un attimino il nostro Xiaomi Mi One S. Ecco qua. Tutto identico. Form factor, le caratteristiche, le caratteristiche hardware come abbiamo visto sono leggermente diverse. Le caratteristiche, però, per quanto riguarda l'estetica, come possiamo vedere, mettendo a confronto, ecco qua, con il nostro Mi One, sono le stesse. L'unica cosa che possiamo notare è una leggera differenza di gradazione per quanto riguarda la scocca posteriore. È sempre in materiale leggermente gommato. Eccolo qua. È leggermente più tendente al grigio, mentre per Mi One, nella versione standard, era completamente nera. Qua troviamo, vediamo anche delle piccole differenze per quanto riguarda gli speaker posteriori. Ma analizzeremo tutto in dettaglio poi nella nostra video recensione. Adesso apriamolo un secondo per fare un primo boot di prova. Ecco qua. Inseriamo la batteria. Richiudiamo la nostra cover e avviamo. Come potete vedere, il logo iniziale, intanto togliamo la velina. Ecco, il logo iniziale, come dicevo. E la boot animation sono personalizzate dall'operatore cinese. Di cui non mi azzardo a pronunciare il nome, perché non ha idea di come si pronunci. E quindi, arrivando alla schermata, eccoci qua. Come potete vedere, poi il resto della ROM di MIUI è sempre la stessa, quella che vediamo anche normalmente sulle nostre versioni. Andremo, come già detto, ad analizzare tutto nel dettaglio nella prossima video recensione. Per il momento vi salutiamo, chiudiamo qua il nostro unboxing e vi diamo appuntamento al prossimo video con la video recensione italiana di MIUI Italia e di Nexus Lab. Un saluto, alla prossima, ciao ciao!